Aver Zanetti, vicepresidente Nerazzurro, Milano, città accogliente e generosa, qui ho realizzato il sogno di essere il capitano dell'Inter. Ciao, benvenuto ad un'altra notizia di Internazionale Milano, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere avvisato personalmente delle prossime notizie sull'Inter, si parte. Il vicepresidente dell'Inter, Aver Zanetti, ritiene che la città di Milano gli abbia sempre fatto bene. Parlando all'emittente italiana Rai Radio tramite Finter News, l'allenatore ed ex capitano dei Nerazzurri ha sottolineato di essersi sempre sentito accolto dalla città di Milano ed ha espresso il suo orgoglio per aver capitanato l'Inter mentre viveva lì. La storia di Zanetti con l'Inter continua con l'argentino che negli ultimi anni ha assunto la carica di vicepresidente. La carriera da giocatore dell'argentino lo ha visto affermarsi come uno dei più grandi giocatori in campo del club, capitanando la squadra a numerosi trofei tra cui il treble europeo durante la stagione 2009-10. Ora Zanetti guida i Nerazzurri nel futuro da allenatore, continuando la sua avventura. Da parte sua, il vicepresidente Nerazzurro ritiene che la città di Milano abbia sempre avuto un ruolo importante nel rendere possibile per lui tutto questo. Milano è una città meravigliosa, ha detto, molto accogliente e generosa. C'è sempre stata una certa bellezza nascosta qui. Sono arrivato giovanissimo dall'Argentina e ho realizzato il mio sogno di essere il capitano dell'Inter. Aggiunto. Lascia la tua opinione nei commenti. La tua opinione è molto importante per l'Inter. Lascia il tuo mi piace sul video, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere avvisato personalmente delle prossime novità dell'Inter. A più tardi.